Siamo davanti allo storico caffè e al ristorante Lessegal, come potete vedere, sono tantissimi turisti, è veramente pieno, questa è Plus Gasly, è veramente bella. Grazie a tutti. Siamo all'interno di Lessegal, ma fatemi spiegare una cosa, praticamente questo caffè, il ristorante Brasserie, è stato fondato nel 1895, come potete vedere sono delle cicale rappresentate un po' ovunque. Nel 1964 viene classificato come monumento storico, era veramente un posto meraviglioso perché era frequentato da tantissimi artisti, tra cui Preve, Breton, e ci hanno anche girato nel 1961 il film Lola. È veramente meraviglioso poter entrare in un posto così perché entri alla fine in un monumento, quindi ve lo consiglio. Non ho provato la Brasserie, ma ho provato il tè e ho preso qualche piccola immagine per farvi entrare in questo mondo magico. Grazie a tutti.